musica 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 marco vieni qua arrivo si donna adesso tu li fai a cercare dei bambini oh si 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 musica se mi trovi l'olio di gomito ti regalo un cornetto l'olio di gomito vai a cercare ma dov'è che lo trovo? in oratorio dai simone dai muoviti vieni qua simone vieni qua ascoltalo devo farti l'indovinello se mi trovi l'olio di gomito ti compro un bel sacchetto di bonbon l'olio di gomito fammelo cercare cos'è l'olio di gomito? stai zitto fucca marina dai marco 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 cosa c'è padre enrico? dove sono tutti i ragazzi? oh 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 devi vedere se abbiamo fatto uno scherzo io e il don Antonio gli abbiamo detto di cercare in tutto l'olio di gomito voglio che entro 5 minuti tutti i ragazzi siano qui hai capito? si padre muoviti per piacere un bel lavoro infatti l overhe marco 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 No!